Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del prodotto. Ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro, è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il biotrituratore a scoppio Bluebird SHL 1200 è l'ideale per la gestione efficiente dei residui vegetali, sia in contesti di giardinaggio che in ambito agricolo. Il Bluebird SHL 1200 è equipaggiato con un sistema di taglio a tamburo, caratterizzato da due lame di 233 mm, che permette di triturare rami con un diametro massimo di 100 mm. Queste caratteristiche rendono il biotrituratore adatto anche per lavori di potatura più impegnativi. Il biotrituratore è costruito per durare nel tempo, grazie ai materiali robusti utilizzati nella sua fabbricazione. Le ruote grandi adatte a terreni irregolari completano il quadro di un dispositivo versatile e resistente. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. , ecco la guida di montaggio del prodotto. visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.